E ancora una volta dall'interno della maggioranza che arriva in là per aprire la discussione a Sapri, in un periodo in cui, tutti presi a fronteggiare l'emergenza, la dialettica politica con l'opposizione si era alquanto stabilizzata. Un post ancora una volta della consigliera con delega alla protezione civile, Bilancio Donatella D'Agostino, ripropone la frattura che già nei mesi scorsi la consigliera aveva mostrato all'interno della maggioranza, sollevando critiche su diverse questioni, gestione del piano di zona, stabilizzazione dei precari e bilancio. Pur essendo consigliere delegata alla protezione civile, ha scritto nei giorni scorsi l'AdAgostino in un post portato alla luce da Sapri Democratica, mi dissocio da quanto è stato posto in essere da sindaco e vice sindaco nella gestione del controllo del territorio, nella scelta dei personaggi che indossano le divise della protezione civile del comune di Sapri. Un'affermazione poi rincarata nei commenti a proposito del gruppo di protezione civile, non è stato distrutto, ha scritto ancora l'AdAgostino, è presente, solo usato a utile e dilettevole da sindaco e suo vice. Un durato d'accusa sulla gestione della protezione civile, che non è chiaro da cosa si è scaturito, ma che non è passato inosservato a Sapri Democratica. L'evidente assenza di collegialità, commentato in una nota il gruppo di minoranza, e l'esistenza di atteggiamenti conflittuali tra chi dovrebbe prendersi cura della nostra comunità messa già a dura prova dal Covid-19, sono uno spettacolo che non si addice alla gravità del momento. Sapri Democratica torna ad appellarsi all'unità, come già aveva fatto mettendosi a disposizione della maggioranza in questo tempo difficile. Confermiamo il nostro impegno a lavorare per il bene di Sapri, per individuare percorsi condivisi per affrontare la rinascita. Oltre alla gravità dell'accusa sull'isolamento con cui sta lavorando il sindaco, resta però il dato politico di una spaccatura in maggioranza. Ma il primo cittadino si dice tranquillo. Il risultato di questi giorni si è visto, ha detto Antonio Gentile, è stato ampiamente positivo, non abbiamo avuto nessun tipo di difficoltà. Nelle prossime ore pubblicherò anche un altro avviso per nuove gestioni di volontari di protezione civile. Ricordo a tutti che la gestione della protezione civile è in capo al sindaco. Nessun provvedimento all'orizzonte per il momento per l'Adagostino. Oggi mi devo preoccupare dell'emergenza, ha detto il primo cittadino. Tutte le forze in questo momento vanno impiegate in tal senso e mi rivolgo anche a chi rilancia questa cosa. L'utilizzo di volontari a supporto delle forze dell'ordine è una normalità all'interno di tutti i comuni, quindi non vedo alcun tipo di problematica.